Beh, però ora almeno sappiamo che non è grave, è solo una distorsione. Già, per fortuna è andata così. Pensa che pasticcio se non avessi potuto giocare per colpa di una banalissima storta. Invece già da domani puoi tornare agli allenamenti? Meno male, ma senza il tuo aiuto non ce l'avrei mai fatta. Dai, non scherzare, si capisce che mi stai prendendo in giro. Questo parco è enorme. Sì, la domenica è pieno di coppiette. Ma come ho fatto a non pensarci? Ascolta, visto che abbiamo tutto il pomeriggio libero, potremmo andare a vederci l'incontro tra Lozomi e la Nishigalda. Sicuramente Manabu sarà già arrivato lì. Poi dopo, se siamo fortunati, facciamo in tempo a vedere anche il Furan. Sì, ok. Ricordati che devi stare attento alla caviglia. Non dovresti correre così, altrimenti la caviglia potrebbe peggiorare. Ah, già, me l'ero dimenticato. Dai. Ehi, guarda che c***o. Il mio unico obiettivo è andare in Brasile e nessuno me lo impedirà. C'è qualcosa che non va, Tsubasa. Eh? Secondo me tu pensi troppo al calcio, distraiti un po', perché non ne approfitti per stare un po' con Shanae. Siamo venuti qui per vedere la partita. Abbiamo appena finito di allenarci. E tu? Hai fatto progressi, racconta. Sì, grazie. Va decisamente meglio. Guarda che non sta parlando del piede. Scommento che hai passato tutta la giornata con Shanae, vero? Vi siete tenuti anche per mano. È andata, racconta. Vi racconta com'è andata, è successo qualcosa? Ma no, non è successo niente. E insomma, si può sapere di cosa state parlando?